Torno all'appuntamento con In Umbria, stasera puntata numero 12 di questa stagione, il nostro tour show di approfondimento politica e non solo in sommario anche questa sera perché parleremo di politica con un candidato a sindaco a Perugia ma parleremo poi nella seconda parte anche di lavoro di giovani e di esperienze legate al territorio e poi concluderemo con un servizio di strettissima attualità, oggi giornata di manifestazioni in tutto il mondo ma anche nella nostra Umbria per l'ambiente, però si parte con la politica e presentiamo subito l'ospite che è nei nostri studi e lo salutiamo, Katia Bellillo, buonasera, ben trovata, candidata a sindaco per Perugia in Comune, parleremo tra poco di questo ritorno sul ring, l'abbiamo voluto battezzare così, ricordando anche i suoi trascorsi nella federazione pugilistica da dirigente ma con me, come ormai nella formula cliché di questi incontri a tu per tu con i candidati, ci sono tre colleghi che vado a salutare, Pierpaolo Burattini, Umbria Radio, buonasera, accanto a lui ritroviamo Federico Fabrizi, il messaggero Umbria, buonasera, e un saluto anche ad Alfredo Doni, Corriere dell'Umbria, buonasera, insieme a loro parleremo con Katia Bellillo, con l'ex ministro Katia Bellillo, ex leader anche di partiti che nella sinistra hanno svolto un ruolo importante, perché torno sul ring, è proprio la slide con cui vogliamo iniziare e con cui andiamo anche a ricordare il percorso politico del nostro ospite nella scheda di Noemi Campanella. Rifondazione comunista lo aveva annunciato, per la corsa Palazzo dei Priori non sarebbe entrata in coalizione con il centrosinistra della Galassia PD e avrebbe proceduto da sola, così è nata la lista Perugia in Comune che si riconosce in Katia Bellillo e la sostiene per le prossime elezioni amministrative. Ne fanno parte Rifondazione, Sinistra Italiana, la Sinistra per Perugia, PC, altre Europa, Sinistra anticapitalista, possibile di Civati e Giovani Comunisti. Katia Bellillo è donna di sinistra da sempre, con alcune parentesi legate al suo impegno a sostegno del pugilato femminile, è stata infatti consigliere della Federazione Pugilistica Italiana e a sostegno anche dell'attività venatoria. La sua prima carica nelle istituzioni fu nel 1976, quando fu eletta consigliere regionale dell'Umbria per due legislature nelle liste del PC, in cui ricoprì la carica di vicepresidente del Consiglio regionale. Un curriculum di tutto rispetto, spesso messo in ombra da alcuni ricordi che le cronache ci danno di lei, quali lo scontro con Sabrina Ferilli nel 2005 sul referendum per la fecondazione assistita, come anche quello ancora più acceso e diviso con Alessandra Mussolini nel corso di una famosa puntata di Porta a Porta nel gennaio 2001. Fu ministro dei governi dell'Ulivo, fu chiamata a far parte del primo governo d'Alema per poi essere riconfermata nel secondo, ricomprendendo in entrambi gli esecutivi l'incarico di ministra per gli affari regionali. Nel successivo governo amato invece fu ministra per le pari opportunità. Nel 98 partecipò all'ascissione interna a Rifondazione Comunista, entrando a far parte del nuovo partito dei comunisti italiani che garantiva il suo appoggio all'Ulivo. Fu deputato nel 2001, è stata responsabile dei diritti civili, del PDC, ha aderito alla formazione di Vendola Sinistra e Libertà per poi ritornare a Rifondazione e nel gennaio 2014 diventare la portavoce nazionale del movimento radical socialista e alle politiche sostenere la lista potere al popolo. Oggi è di nuovo in campo per Perugia, una Perugia in comune che vuole proporsi come alternativa all'attuale maggioranza ma anche al modello del centro-sinistra. Sconfitto 5 anni fa è tornato in auge in questa sessione elettorale. Di sicuro non mancheranno la sua grinta e la sua determinazione che ne hanno contraddistinto le battaglie, anche sui diritti civili, per puntare ad un risultato a sorpresa e chissà, magari, anche ad essere un riferimento di interlocuzione necessario in un ipotetico secondo turno. Per ora, bentornata Katia Bellillo. Bentornata Katia Bellillo. Insomma, raccontare in due minuti chi è stata e vuole ancora essere Katia Bellillo non è facile. Questo è un lungo percorso, c'è stato qualche anno sabbatico. Dieci anni. Dieci anni. Dieci anni. E questo ritorno in campo come lo leggiamo? Dunque, questo ritorno è, come dire, dovuto a una serie di fattori. Prima di tutto perché mi sono venuti a cercare e mi hanno chiesto, mi hanno rappresentata questa nuova sfida a partire da una realtà, da un territorio, da un comune, da un municipio. E poi il fatto che finalmente ho trovato tutte le anime perse nel corso di questi trent'anni terribili di diaspora, della sinistra, soprattutto della sinistra alternativa che è più legata al sistema, diciamo, di tradizioni socialiste, socialdemocratiche, comuniste. E dunque ho detto sì. Nel momento in cui ho detto sì è come quando ti sei disintossicata e poi basta poco che ritorni immediatamente al vizio. Oppure non vai più in bicicletta da tanto tempo, non importa, ma appena sali sulla bicicletta ti ricordi come si pedala soprattutto. Immediatamente. Beh, queste sono un pochino le prime motivazioni. Poi andremo a scandagliare anche gli altri particolari con i nostri ospiti. Però, insomma, tutto è pronto per questa puntata numero 12 di In Umbria. E allora sigla e poi partiamo. In Umbria puntata numero 12 con Katia Bellillo in studio con gli ospiti della stampa, Pierpaolo Burattini, Federico Fabrizi e Alfredo Doni. Parliamo di questa novità tra le candidature a sindaco per Perugia con l'ex ministro Katia Bellillo. Abbiamo ripercorso un pochino la sua carriera politica. Abbiamo toccato un primo approccio sulle motivazioni. Tra l'altro nel corso di questa prima parte della nostra trasmissione sentiremo anche altre voci che abbiamo raccolto di personaggi che fanno parte del mondo della sinistra ma che stanno vedendo l'attualità in modo diverso. chi continua a percorrere la strada che vede di nuovo in campo Katia Bellillo e chi invece ha abbracciato, in qualche modo sta sostenendo altre cause. Prima di coinvolgere i colleghi giornalisti chiedo a Katia Bellillo se questa decisione di scegliere è stata più un gesto istintivo ritorno davvero sul ring oppure c'è stata parecchia meditazione? No 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 è stato un attimo sulle panchine della Piazza Italia con le compagne che mi hanno esposto l'esigenza di far sentire una voce e avevano bisogno di qualcuno che le aiutasse a gridare. Abbiamo bisogno di uscire da questa difficoltà per i cittadini in carne ed ossa per le persone normali di rappresentare e rappresentarsi. E allora immediatamente con questa solidarietà femminile perché io credo che oggi al centro di tutto del cambiamento ci siano i municipi e le donne. E su questo ho diciamo riposto la mia speranza, la mia fiducia e lanciato la sfida. Lanciato la sfida Katia Bellillo, Pierpaolo Burattini, ti aspettavi intanto che potessimo avere comunque questo protagonista in un agone perugino che in questo momento ancora probabilmente non ha completato il roster dei candidati. Prima stavamo conteggiando col collega Federico Fabrizi che lui su questo è molto puntiglioso, sei candidati al momento, compresa la Bellillo. Almeno sei in questo momento dati per certi, per molto molto probabili. Insomma comincia a essere una competizione abbastanza affollata per usare questo eufomismo. Sulla candidatura della dottoressa Bellillo io ho questa idea che non so se loro hanno parlato con il centro sinistra, intendo il PD, Giubilei. A Perugia francamente la sinistra va divisa, non credo che sia per loro un buon segnale politico e non sia neanche una buona partenza elettorale, poi lo diranno i numeri. Questa è la mia idea. Volevo sapere da Bellillo se aveva interloquito parlato con Giubilei perché poi alla fine contano i numeri e il centrosinistra a Perugia con la Bellillo che rappresenta, come ha detto lei, l'area radicale della sinistra e Giubilei che dovrebbe rappresentare in questo schemanittismo politico quella più moderata, centrosinistra si ritrova con due candidati. Io non so questo se sia di buon auspicio, dico la mia, no. Però volevo sentire Bellillo se aveva parlato con Giubilei. Rischiate di fare un favore al centrosinistra? Allora, noi, ecco, cominciamo proprio male, nel senso che... Ma noi siamo qui apposta per cominciare... No, no, ma io sono contenta perché in questo modo mettiamo subito a bollire le cose. Appunto. Allora, prima di tutto c'è la legge 81 del 93 che l'hanno voluta, io no, ma l'hanno voluta per l'elezione diretta del sindaco. Cioè, si è voluto uscire dagli schemi, dalle strettoide, dei partiti della vecchia Repubblica, la vecchia Prima Repubblica... Ancora non c'era la seconda. Appunto, ecco, ho 20 anni di seconda, ragazzi, 30 anni di seconda è tosta. Allora, ah, il sindaco deve essere eletto direttamente dai cittadini. Sei solo sindaci che si presentano. Io potrei anche ipotizzare che ci potrebbero essere anche di più, perché le personalità che potrebbero piacere ai perugini sono molte a Perugia, no? Invece no, vogliono continuare, no? Hanno modificato anche dal punto di vista dell'impatto, no? Per cui il sindaco deve essere una personalità che vogliono i cittadini e quindi deve avere il consenso della maggioranza dei cittadini. Poi, una volta che c'è questa normativa, l'hanno imbrigliata con gli schemi vecchi, come usano loro questo linguaggio, lo utilizzo anche io, della vecchia Repubblica, della vecchia politica, fra virgolette. Allora, prima di tutto... Si riferisce a quel che succede dopo al ballottaggio, magari? Appunto, adesso io non parlo di ballottaggio perché io parlo come una cittadina di Perugia che di fronte alla situazione che si è vista intorno, dieci anni che ho fatto la figlia di due anziani malati, la mamma di giovani che dovevano trovare il lavoro, la nonna di una nipote per portare la scuola e non vi dico, quindi ho tribolato, ho sofferto dentro una città che è faticosissima. Tutti dicono che vogliono cambiare, però non hanno cambiato niente. Allora, io mi propongo, sono una che ha un curriculum, che chi mi ha conosciuto sa che quando dico una cosa la faccio anche, se no non dico che faccio. mi sono confrontata con settori importanti della società, sia a Perugia, sia in Umbria che a livello nazionale e anche a livello internazionale su tutta una serie di tematiche. Quindi ci sono le cose che ho fatto e ho tirato su una famiglia. Noi non si metteva in discussione, hai gittimità della sua candidatura. Ascolto, scusami, io chiudo, no, lo voglio chiarire, tu mi dai la stura per dirle le cose. No, le alzo la palla. Poi ascoltano le persone, allora io dico, adesso io mi candido, se i cittadini non hanno fiducia di me non mi voteranno, pace, ma questa è la democrazia, la democrazia diretta da un'elezione che vuole un sindaco dei cittadini della città. Con Giubilei hai avuto occasione di parlare? Allora, io non ho avuto occasione che, diciamo, che ho iniziato a dare queste quattro sgambate in bicicletta da una decina di giorni, quindi mi sono confrontata prima di tutto con tutti coloro che mi hanno chiesto di rimettermi in pista per dargli voce. Dopodiché con Giubilei io, onestamente, seppure siamo la stessa generazione perché lui dovrebbe avere due anni meno di me, io non ho avuto modo, so che è un giornalista, l'ho seguito in varie trasmissioni, ma non ho avuto modo di confrontarmi con lui, non so se ha avuto esperienze amministrative, se conosce come funziona la macchina pubblica, cioè non lo so questo, vedremo. Ci confronteremo perché abbiamo storie diverse, esperienze diverse, famiglie diverse. Se siete mediati a Rai 3, magari ne parlerete, prima del 26 maggio. Federico Fabrizio, annuivi sul fatto che forse aumentano i candidati. Potrebbero aumentare, sì, potrebbero salire da 6 a forse 8, 7, 8 prima con Pierpaolo, facevamo i conti e le stime di questo. La mia curiosità rispetto alla candidatura della Belillo è questa e credo che sia un po' la sua sfida di queste prossime settimane. Questo fronte di sinistra-sinistra, chiamiamolo così, in una competizione amministrativa è chiamato a smentire l'idea che questa sia una candidatura di bandiera, di testimonianza, dire ci siamo anche noi. Allora, come si fa? Secondo me è indispensabile caratterizzarsi, visto che parliamo di una competizione amministrativa, caratterizzarsi sui programmi, sulle scelte, sulle questioni. Allora, la domanda scontata è questa. Che cosa vi distingue, che cosa vi ha portato a proporre questa candidatura? Che cosa c'è che non vi convinceva nella proposta di Giubilei e di questo centrosinistra un pochettino allargato che si è costituito intorno alla candidatura di Giubilei tanto da portarvi a correre da soli? Proprio per smentire l'idea che la vostra non sia semplicemente una testimonianza, una corsa tanto per esserci. Ecco. Dunque, così a caldo, la prima è una battuta. Chi si è scottato con l'acqua calda ha paura anche dall'acqua fredda. Ora, io ho smesso di fare politica quando è nato il PD e per una valutazione politica, non per differenziazione di ideali. Ho approvato la scissione per sostenere l'ultimo governo di centrosinistra, però di tipo a sinistra di tipo socialdemocratica. Ecco. Quindi noi, della sinistra comunista radicale, sostenevamo un governo... Il governo di D'Alema. Il governo di D'Alema è l'ultimo tentativo di avere in Italia, no? Allora, il PD è il PD. È un partito, un cartello, un'organizzazione nata con l'idea di modificare anche la tipologia, diciamo, della struttura istituzionale. Vedi, esperienza... Il referendum. Il referendum, le modifiche, le riforme, Renzi e quant'altro. E non è un caso che con la nascita del PD tutti quelli che sono alla sinistra del PD si sono trovati in affanno e dal 2008 non c'è più un partito comunista organizzato presente nelle istituzioni, soprattutto a livello nazionale. Non è un caso. Allora, io dico... Con questo partito democratico, Umbro, con tutto il rispetto per le persone, per carità, io mi levo tanto di cappello a tutti, però, insomma, non è che voglio usare i termini antichi, ma Bocci, che è diventato segretario regionale, è ex democristiano, democristiano, come io resto sempre con la mia idea, lui sarà restato con la sua idea. E penso a Guasticchi, che anche lui viene da un'esperienza completamente diversa, non è stato nemmeno socialista, voglio dire, no? Ecco, dopodiché i miei amici e i miei compagni che mi sostengono, che sostengono la mia candidatura, mi hanno detto che all'inizio c'era un fronte unitario, si è lavorato insieme, si è discusso, quando poi si sono ritrovati con alcune decisioni già prese. Allora dice, a questo punto... Che ci stiamo a fare? È l'eterno malattia della sinistra, questa. Ma la malattia della sinistra, anche questo, ma scusa, ma cosa vuol dire la malattia della sinistra? È la malattia di chi difende degli interessi e di altri. Allora, se io devo continuare a portare acqua, come ho fatto a suo tempo, per fare in modo che si facciano le politiche a favore del grande capitale, o delle scelte appunto di chi tira di più la giacca e ti fa modificare l'uso dei terreni per far mettere questo o quello perché te lo dice, io voglio stare lì piuttosto che di là, io non ci sto, ma che c'entra la sinistra? Io sono di una sinistra che parte dai problemi della gente, da quelle sofferenze, dalle anze della quotidianità, dal fatto che i figli non gli lavorano, dal fatto che non riescono a arrivare. Siamo d'accordo su questo, io adesso per farla breve, quello che gli ha chiesto Fabrizi, qual è la differenzazione sul programma, io le dico una cosa, lei è un dirigente politico di Vaglia, allora, siamo qui, ci vogliamo dire le cose come stanno, se lei faceva un accordo con Giubilei e Giubilei vinceva, lei poteva incidere nelle scelte di Giubilei, così lei non inciderà. Allora, se ce la vogliamo dire, ce la diciamo. Dalla, la vogliamo farsi o no? Cioè, la campagna elettorale, allora chiudiamola, chiudiamola qui, vincevilei. Lui l'ha dato per scontato. Lui l'ha dato per scontato che sto già no. Però aveva più possibilità, mettiamola così. Ma non sarei stata tirata fuori io da dove stavo così bene, no? Ma se lui avesse... Ho capito, ho capito. No, ho capito, la corsa come dire, con la bandiera. Che vuol dire la bandiera? Alfredo Doni, Alfredo Doni, poi volevo, anzi intanto volevo chiederti un parere, poi fai la domanda alla nostra ospite. Sentendo giustamente le parole di Katia Bellillo, se non sapessimo che Katia Bellillo potremmo anche pensare di sentire le parole, ad esempio, di un esponente del Movimento 5 Stelle. Lo dico non perché, ovviamente, voglio cambiare etichetta a quello che dice Katia Bellillo, ma perché forse l'elettorato in questo momento, che cerca quelle risposte, le chiede a qualcun altro. Alcuni dei temi che ha appena toccato la Bellillo, come il lavoro, per esempio, e comunque il sostegno ai giovani sono dei temi che sono stati ripresi senza alcun dubbio dal Movimento 5 Stelle. Ma quello che sta apparendo in questo momento è uno spot clamoroso per il centrodestra, sicuramente. Cioè, sentire certi argomenti e leggere una fitta rappresentatività dal centro verso la sinistra non fa che aumentare comunque, anche se involontariamente, la convinzione di un elettorato che magari potesse avere qualche dubbio. Perché mentre nel centrodestra c'è un punto fermo a Perugia che si chiama Romizzi, e basta, adesso vedremo che succederà con Casavound, ma insomma, lì parliamo di un'altra situazione, di sicuro l'elettorato di centro-sinistra in questa maniera è disorientato. Su questo non ci sono dubbi, perché tra l'altro a noi risulta che già un altro candidato, Giordano Stella, abbia annunciato proprio in queste ore di candidarsi con un gruppo che si chiama Coscienza Verde. Quindi ancora sempre temi di ambiente. Insomma, vi dividete, secondo me... Quello che citava Fabrizzi, ecco, Coscienza Verde. Sì, Coscienza Verde, questo risulta a noi. Quindi vi dividete un elettorato, secondo me, già un po' disorientato. Questo non aiuta sicuramente battaglie, sono d'accordo con Burattini, probabilmente tentare, non che sia colpa sua, chiaramente, ma tentare un'aggregazione di più liste, di più anime, diciamo, che derivano, che hanno radici diverse, ma che comunque fanno riferimento alla sinistra, sicuramente sarebbe stato migliore, ma è inutile che ne parliamo in questo momento. Oramai sta andando verso questa direzione. Io le volevo chiedere anche una cosa. Lei prima diceva, mi sono venuti a cercare, questa cosa mi ha colpito molto, perché la sua esperienza non è messa in discussione, ma lei ha anche ricordato che da dieci anni praticamente se ne stava comunque fuori da un ruolo attivo della politica. Le chiedo, ma questo non le ha fatto anche pensare che in questi dieci anni non è stata creata una classe dirigente giovane o comunque degli esponenti, delle persone in grado di rappresentare le istanze che lei oggi è chiamata a rappresentare? Allora, prima di tutto, cioè ci sono... Qualche giovane ciclista. Il grande De Gaulle ha vinto la guerra e poi se ne è ritornato a casa e poi sono andato a richiamarlo. Anche cincinnato, se ritorniamo... Cioè le persone serie fanno le loro battaglie e poi decidono, fate voi. Io ho dieci anni e ho visto solo giovani, ma poi questa divisione fra giovani e meno giovani è veramente una falsità, cioè è qualcosa che si costruisce ad hoc. Far credere che i giovani non riescono a fare protagonismo nella politica perché ci sarebbero gli anziani. Non è affatto vero. Abbiamo visto in questi anni, io ho visto in questi anni giovani. Sono tutti giovani, non è che c'è una cosa... Chiamano chi ha l'esperienza o comunque chi pensano che possa rappresentarli. Potrebbe essere un giovane o potrebbe essere una persona come me che ha fatto un'esperienza, diciamo, su temi specifici, sulla gestione, sulla conoscenza della macchina pubblica. Il giovane Romizzi, che è veramente un ragazzo gentile, educato, di buona famiglia, ma quanto è stato presente in Consiglio Comunale? Quanto ha inciso veramente? Quanto ha governato questa città? Non ha cambiato niente rispetto a prima. Anzi, semmai questa città si è incupita ancora di più. Io ho trovato che c'è più paura. Perché? Perché si è alleato con personaggi che vivono solo attraverso... facendo nascere la paura, dividendo le persone. Allora, si dividono i giovani dagli anziani, si dividono gli uomini dalle donne, i sani dai malati. E quindi, in questo modo, che cosa avviene fuori? Viene fuori l'angoscia, la solitudine, la desolazione e la nostra città, che io ricordo essere una città, essere stata poi una città piena di solidarietà, di cultura, di rapporti, di reciprocità. È diventata una città impaurita. Allora, io che cosa voglio fare? Io voglio tuffarmi insieme a tutti, giovani, uomini, donne, sani, malati, come siamo, come sono i cittadini, fra le pieghe della società, fra le sue contraddizioni. E voglio dire, ritrovate la passione per la politica. La politica vi appartiene, non la dovete delegare, dovete votare i vostri rappresentanti, ma avere poi, loro devono avere il vostro fiato sul collo. Questo io voglio dire. E farò la mia campagna elettorale insieme ai miei coraggiosi, valorosi compagni e compagne e andremo nei quartieri con, loro aprono le strutture megagalattiche in tutti i quartieri e noi ci facciamo prestare un camperetto e così facciamo i migranti. Speriamo che il ministro degli interni non ci venga ad abbattere, però faremo i migranti all'interno di questa città. Dell'Interland Perugia. Il suo territorio, perché la città è il territorio. Poi ne parliamo, poi ne parliamo dei temi legati a Perugia. Intanto però le voglio far ascoltare le parole di due esponenti storici o quantomeno, diciamo, dei veterani della sinistra Umbra, che però hanno preso, hanno fatto scelte diverse. Per ora li sentiamo in questo primo brano sul significato che ancora oggi ha il dirsi di sinistra, perché lei ha detto da dieci anni, da quando è nato il Partito Democratico, chi si riconosceva in questa parola si è trovato forse un po' disorientato. Sinistra-sinistra l'ha chiamata Federico. Sentiamo cosa ci dicono Stefano Vinti e Perluigi Neri. La necessità di rifondare la sinistra, di riconiugarla e di riconnetterla con le problematiche di oggi, che sono quelle della perdita di diritti sociali, della messa in discussione dei diritti civili, della crisi ecologica e ambientale profonda che attraversa anche la nostra città. Basta pensare a tutta la vicenda dell'incendio della Biondi a Ponte San Giovanni, impone una rifondazione della sinistra e in questo senso la partecipazione dal basso di cittadini, di lavoratori, di precari, di ricercatori, di disoccupati che tentano in un processo di autogoverno di rappresentare i propri bisogni e di definire un progetto, penso che sia una strada a perseguire. Si goda il rischio di apparire come dei re educi e non come dei soggetti capaci di proporre un'idea per il futuro. Non è facile esserlo piuttosto che dire di esserlo, perché c'è una remora forte a riferirsi ad una ideologia, cioè ad un'idea forte, anche utopica, come era per le grandi linee di pensiero dell'Otto-Novecento. E quindi in questo senso ribalto la domanda, perché ad esempio addirittura nel tempio dell'ipercapitalismo statunitense c'è questa grande attenzione nei confronti di Marx e proprio perché c'era una capacità di leggere il mondo, i rapporti di forza, l'economia, le relazioni sociali, dico io, il surplus del capitalismo e lo sfruttamento di milioni, oggi miliardi di persone. Evidentemente, se uno vuole apparire soltanto come un movimento, prendo una definizione, anche questa marxista, si può avere una consapevolezza di sé, ma non si agisce per sé. Vinti ha dichiarato chiaramente che sosterrà... Piena filosofia marxista e geliana. Esatto. Attenzione però, perché Vinti ha dichiarato pieno appoggio a Katia Bellillo e invece Neri, poi sentiremo un secondo brano, non ha nascosto che il 4 marzo scorso, quindi poco più di un anno fa, e continua adesso, a riconoscersi più nel Movimento 5 Stelle, insomma la figura storica della sinistra Umbra. Anche questo è specchio di un disorientamento, la sinistra attuale non parla abbastanza chiaramente, perché lo stesso elettorato probabilmente di 5 Stelle pesca molto tra i giovani, ma anche tra chi magari qualche anno fa avrebbe votato a sinistra. guardi, 5 anni fa, fino a che c'è stato diciamo il vecchio Movimento 5 Stelle con Grillo che sulle... Primissimi tempi. ...sulle piazze andava a, diciamo, a mandare a quel paese tutti quanti, era un discorso. Quando c'è stato il cambio con Di Maio si è visto subito insomma dalla piazza e al Vaffa e abbiamo visto diciamo la mutazione genetica anche di questo movimento e della crisi che c'è all'interno del movimento. Pierluigi Neri è un professore, uno storico, è uno studioso, un intellettuale e comunque una persona di una correttezza intellettuale, onestà intellettuale eccezionale, quindi io rispetto il suo ragionamento politico, cioè lui pur ideologicamente si è sentito è di immatrice maxista è chiaro che politicamente lui giustifica il fatto che in questa fase bisognerebbe azzerare tutto e il movimento 5 Stelle darebbe questo ma questo poteva essere prima della mutazione genetica del movimento 5 Stelle io invece sono convinta che molti che hanno votato 5 Stelle hanno bisogno di nuovo di ritrovare una collocazione più solida più chiara più definita perché l'operazione che hanno fatto è che hanno in realtà stanno lavorando per fare aumentare un partito che aveva preso il 12% e lo hanno lo stanno facendo raddoppiare questo è il ruolo che in questo momento il movimento 5 Stelle sta a fare per fare nome e cognomi certo la Lega la Lega gioca su più tavoli la Lega gioca nel centro destra la Lega gioca con loro come gatto fa quel topo e ovviamente una parte di persone che hanno votato e allora io dico siccome lo so perché sto già andando in giro e mi dicono per noi è importante avevamo votato per 5 Stelle all'amministrazione comunali del 5 anni fa questa volta probabilmente non lo rifaremo ma poi c'è tutto quel 40% di persone alcune lo fanno ideologicamente o qualunquisticamente non vanno a votare ma c'è una parte importante che non va a votare a me molti mi hanno detto meno male che ci sei te ma sono erano voti comunque sono voti della sinistra perché altrimenti sarei andata a votare ma avrei annullato la scheda allora dobbiamo si o no spenderci per recuperare alla politica la passione politica tanta gente che è rimasta frustrata da 30 anni di delusioni perché pensavano di votare per un progetto e poi si sono ritrovati invece con un'altra cosa io credo che abbiamo bisogno di rafforzare la democrazia la trasparenza e la partecipazione questo lo possiamo fare dal comune dai quartieri con i comitati di gestione dandogli la possibilità a tutti di dire la propria penso a tanti fatti a tanti eventi tra poco entriamo nello specifico per Perugia voglio aggiungere qualcosa in realtà sì perché entriamo magari nel vivo di alcune tematiche abbiamo un stop pubblicitario ma se vuoi dire al volo qualcosa no no aspetta allora andiamo in pubblicità e poi torniamo ripartendo da Alfredo Doni che voleva subito a sollecitare Katia Bellillo pubblicità bicchiere d'acqua seconda parte di questa nostra puntata numero 12 in Umbria con Katia Bellillo ripartiamo avevamo lasciato in sospeso la domanda la curiosità di Alfredo Doni Alfredo sì perché la Bellillo prima parlava di partecipazione di trasparenza in realtà negli ultimi mesi ma anche negli ultimi anni a Perugia più volte si sono riuniti in comitati spontanei o comunque diciamo costituiti quartieri cittadini e uno dei temi sempre all'ordine del giorno è stato sempre quello della sicurezza un tema che è stato cavalcato come sappiamo bene dalla Lega allora io chiedo al candidato sindaco che cos'è che secondo lei non ha funzionato e quale potrebbe essere uno dei rimedi per garantire o per cercare di garantire ancora di più la sicurezza in alcuni quartieri di Perugia Fontivegge per esempio ma ce ne sono anche altri beh la sicurezza prima di tutto si costruisce dando garanzie sicurezza alle persone alla vita delle persone senza servizi sociali senza politiche del lavoro senza interventi per l'integrazione è chiaro che le persone che si trovano in difficoltà che non ritrova che la mattina non sanno se potranno dare a mangiare ai propri figli succede può succedere di tutto noi abbiamo bisogno di qualificare prima di tutto bloccando l'aumento indiscriminato delle costruzioni rubando suolo pubblico il suolo costruendo questi nuovi quartieri senza infrastrutture senza situazioni di sicurezza reale per le persone dall'altra è inutile se noi continuiamo a pensare che il nostro vicino è il nostro nemico che quello che ha un colore diverso della pelle o ha una religione diversa è il nostro nemico e non costruiamo invece interventi di servizi per qualificare anche l'ambiente urbano l'accoglienza dell'ambiente urbano i stessi quartieri sono divisi uno dall'altro cioè non c'è una come dire una continuità da un quartiere all'altro i trasporti sono assolutamente non utilizzabili se noi non riusciamo a ridefinire il parco della mobilità umbra attraverso diciamo mezzi adeguati che permettono anche lo spostamento da un quartiere all'altro perché il problema non è soltanto dal centro alla periferia no? ma anche dalla periferia al centro ma anche dal centro alla periferia e poi il centro diventa diventa per noi per chi abita nell'altro territorio nella parte nel territorio della città è ancora c'è il come dire le mura ci sono ci sono le mura con questa politica dei parcheggi che è assurda lo stesso mini metro ma noi non possiamo trasportare le persone dei quartieri del nord Perugia tutti a Pianti Massiano con il coso il bussi non so che adesso ma dobbiamo fare in modo che ci siano navette che possano permettere quanto costerà rinnovare il parco invece di andare a inventare cose incredibili le volevo chiedere anche proprio sulla scorta di questo entriamo nella ricetta per Perugia mi dice la sua priorità per la città di Perugia allora prima di tutto stop all'edilizia perché questo sta comportando non soltanto un problema per mantenere i servizi per garantire la viabilità per avere anche quartieri che siano agibili e che siano diciamo vivibili per chi ci vive ma anche perché c'è le nostre abitazioni si svalorizzano perdono valore è ovvio e questo attraverso anche una con la scuola edile penso sia possibile riprofessionalizzare gli addetti all'edilizia per un grande intervento di recupero delle strutture e delle abitazioni che già ci sono lavorare sull'esistente lavorare sull'esistente ridefinire diciamo il parco della mobilità attraverso anche una nuova politica con i parcheggi che purtroppo sono diventati tutti privati anche dicendo va bene noi come amministrazione comunale dobbiamo garantire la mobilità perché è un diritto la mobilità come l'acqua bene comune noi vogliamo applicare il referendum che i cittadini hanno dichiarato che l'acqua deve essere un bene comune e quindi noi ce l'abbiamo ancora un SPA ecco qua quindi noi abbiamo tutta una serie di proposte che sicuramente possono essere realizzate perché perché Napoli l'ha fatto è una città ribelle e noi vogliamo Perugia fra le città ribelli europee come Lisbona che nel giro di pochi anni ha cambiato completamente totalmente l'impatto con la città e la vivibilità della città Barcellona Lussemburgo si sta muovendo su questa direzione la stessa Tene sono la rete delle città in comune città ribelli che si ribellano alla dittatura del mercato che ci vuole tutti i sudditi sottomessi alle proprie regole per questo si chiama Perugia in comune sì Perugia in comune per questo Pierpaolo su cosa dovrebbe puntare Katia Bellillo la sua lista secondo te per andare a intercettare chi magari o non vota o vota altrove no detto che in attesa dell'instaurazione della dittatura del proletariato mi rifaccio a neri in attesa di quella io mi permetto di dire a Bellillo che è una dirigente seria e conosce che a Perugia ci sono degli spazi che possono essere recuperati io mi attengo come dire alle questioni terrene non vado sulla filosofia politica mi tengo più basso l'ultimo ne parlavamo con i colleghi poco fa con Fabrizio Edoni vengono tolte delle lamiere di Eternit dall'ex mercato ortofrutticolo di via Settevalle allora lì dottoressa Bellillo si può fare come dice lei una rivoluzione a mio avviso in cosa consiste non di prendere i fucili e sparare ma si tratta di rimettere a posto l'ex mercato ortofrutticolo e riuscire a farci qualcosa allora come si fa qualcosa sull'ex mercato ortofrutticolo per quanto ne so io per quanto ne capisco io secondo la mia logica si potrebbero mettere insieme attività il comune o comunque il pubblico e magari tirarci dentro qualche imprenditore un privato lei giustamente ha ricordato il suo curriculum internazionale è stata ex ministro insomma non è l'ultima arrivata anzi in questo in questo sa bene che si può costruire qualcosa io le ho citato il caso dell'ex mercato ortofrutticolo a Fontivegge Romizzi adesso al di là della battaglia io capisco politica alcune cose gli vanno dato atto che ha cercato di farlo questo recupero lo si può fare però oggigiorno non pensando che mettiamo la cassa depositi e prestiti a elargire soldi perché lei le usa meglio di me oggi non ce n'è però facendo un lavoro tra pubblico privato recuperare uno spazio di quelle genere in via Settevalli secondo me è una vera rivoluzione perché lì ci può venire qualcosa che può essere anche per le fasce deboli ma non solo quello non so io adesso le ho citato per dire una cosa ma ha detto una cosa mi sembra un dato il resto se no restiamo sul fatto io adesso voglio dire star qui a parlare della storia del partito comunista con tutto rispetto a una storia gloriosa e anche tragica è anche tragica però ha poco senso il problema è declinarle che io sono qui a parlare della storia ho visto che svolazzavamo il problema è che oggi anche il modo di essere di sinistra e poi la chiudo qui bisogna un pochino calarlo sulla realtà allora guardi io ho fatto l'amministratore e ogni volta che ho lavorato sulle questioni ho sempre cercato di lavorare pubblico e privato questo è un passo importante tra l'altro secondo me sì infatti c'è un'esperienza perché oggi il pubblico da solo non lo può fare un'esperienza molto bella però una parte del PD non la voleva ma lasciamo perdere il PD allora la villa Costanzi di Spello io avevo creato un progetto dove naturalmente il pubblico doveva essere quello che coordinava vigilava definiva insieme al privato invece la linea era quella che bisognava cedere la proprietà alla gestione totale esclusiva del pubblico del privato capito la differenza qual è io penso che si possa lavorare pubblico e privato io ho lavorato con una splendida signora che tra l'altro siamo ancora amiche lei consigliere comunale di Perugia nel 90 e io di rifondazione comunista in un periodo in cui si è è accaduto di tutto il DC è finito il PC è finito la vecchia appunto la prima repubblica finita io e lei su fronti diversi eppure abbiamo lavorato su progetti meravigliosi abbiamo fatto delle cose eccezionali e anche con le associazioni e con i privati in provincia appunto abbiamo fatto la giornata dei teatri aperti con lei che era presidente del Touring Lab e non la cito ma chi ascolta già sa di chi parlo ma per rispetto della sua autonomia e della sua figura non voglio però abbiamo lei lo dice ancora abbiamo lavorato benissimo abbiamo fatto un progetto eccezionale poi a me mi hanno chiamato a Roma e quel progetto è chiuso finito io da presidente da vicepresidente della provincia ho per primo a Perugia portato e aperto il servizio di mediazione familiare non quello di Pillon la mediazione familiare laica che aiuta le coppie scoppiate con figli a gestire in modo civile senza imposizione non può essere imposta la mediazione familiare ma noi avevamo aperto questo servizio dopodiché ovviamente no dovranno essere privati e dunque ha capito chi allora se Giubilei decide che è importante a questo punto l'unità mi cerca ne parliamo un attimo e io faccio il sindaco della coalizione di centro sinistra 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 insomma potremmo chiedere non abbiamo avuto già ospite Giubilei se no io chiedevamo Federico no preso atto preso atto che effettivamente come dire le differenze politiche vengono declinate anche su aspetti pratici e è apprezzabile lo sforzo della Belillo di tradurre quelle differenze sostanziali loro dicono noi col PD non c'entriamo niente quindi piuttosto che stare col PD saremo stati a casa allora e quindi facciamo una cosa diversa allora io sono curioso di capire su alcune questioni proprio spicciole semplici per esempio il progetto Ikea è un progetto che può adesso lo chiamiamo Ikea con o senza Ikea con o senza Ikea progetto con le strada giustamente fanno con il telefono progetto con le strada che si modifica o comunque quel tipo di di soluzioni che hanno trovato comunque vicini sia il centrodestra di Romizzi che anche il centrosinistra che non ha mai detto no a Ikea ha posto una serie di problemi l'ha fatto un po' alcuni magari per motivi tra virgolette strumentali per fare opposizione al Consiglio Comunale però su quel tipo di sviluppo su quel tipo di progetto noi abbiamo visto una convergenza delle forze che oggi siedono il Consiglio Comunale allora sono curioso di capire di fronte a un progetto del genere Katia Belillo sindaco di Perugia arrivano i signori di Ikea e dicono noi vogliamo raddoppiare con le strada e portare qui Ikea che risponde il sindaco Belillo e garantire però anche l'occupazione dice di no portando X posti di lavoro state già ancora state a Roma a due passi chi vuole andare alcuni telefonano cioè non c'è più posto non c'è più posto per centri commerciali o per tutti questi che vengono e hanno distrutto tutta la nostra economia i nostri artigiani non riescono più a lavorare hanno strozzato la nostra economia cosa ci facciamo ogni volta un centro commerciale dicevo prima che poi non ho finito il discorso allora noi abbiamo il centro di Perugia con certi negozi no? con certi proprietari poi hanno fatto con le strada e hanno fatto anche con le strada i stessi negozi gli stessi proprietari alcuni invece Poretti si sono dovuti imbarcare il mutuo per fare la propria poi Gerlinda no Gerlinda non va più bene il Quasar lì noi abbiamo una situazione allucinante leggevo dei dati l'Umbria la nostra regione c'è la percentuale la concentrazione di ipermercati supermercati e ipermercati più alta d'Italia e dell'Europa sono stata in Francia io i centri commerciali ipercentri commerciali che ho visto qui non l'ho visto da nessuna parte l'avete visto la stessa Parigi non ha tutto questo Brescia sì appunto ecco a Brescia quindi abbiamo Perugia l'Umbria e Brescia che cosa ci facciamo parlo di una zona ricca allora non parlo di una zona dove ci sono occupazioni non si mangia più territorio chiuso è chiuso e invece dobbiamo sostenere i giovani e meno giovani quelli che hanno perso il lavoro perché possano se vogliono aprire i primi anni diciamo senza tasse comunali lo sapete che prima di aprire un negozietto anche quello più piccolo a parte l'iter i tempi assurdi da un ufficio all'altro con un ufficio all'altro prima di aprire di guadagnare devono far guadagnare altri il comune altri istituti altre istituzioni e poi devono cominciare a lavorare per cercare di rimettere quindi chi non ha la famiglia che gli aiuta gli sostiene a fare questo salto per trovarsi per trovare un lavoro non hanno nessuno allora il comune io dico si deve impegnare piuttosto che creare queste contraddizioni anche interno alle persone dentro i centri commerciali facciamo in modo che Perugia tutti i vigoli di Perugia l'altro giorno ho fatto non un vigolo ma via dei priori dove finalmente ritornino ad aprire le attività le attività artigianali gli artigiani il piccolo commercio certamente ascoltiamo il secondo brano delle interviste che abbiamo fatto poi ripartiamo anche in questo caso da Alfredo Doni e poi sentiamo un suo commento il significato della sua candidatura sempre ai due interlocutori che abbiamo interpellato prima beh intanto appunto a proposito del chitorno Sorringa Katia Bellillo è sempre stata una combattente essendo giovane ancora oggi ma insomma qualche anno è passato ma ha ancora questo entusiasmo giovanile nel trovare motivi per battersi per ingiustizie ma nel caso appunto di Katia Bellillo che da un numero ridotto di anni tuttavia aveva ritenuto di tenersi un po' ai margini quantomeno di una presenza attiva sullo scenario politico Perugia l'ha convinta a tornare in campo non a scendere in campo perché appunto questo deriva da chi non ha mai fatto politica quindi sembra che chissà chi è e quindi scende in no si è sul campo sempre quindi a tornare in campo per rappresentare quella parte di sinistra che c'è e io spero per lei che sia anche consistente a Perugia pur se differenziata in organizzazioni più o meno grandi relativamente parlando e tuttavia a sinistra di un PD che ha tempo a poter dire nel caso lo tentasse di essere rete del PC sciolto da occhetto nel 1989 ma che in effetti è un partito ad essere buoni di centro forse anche con qualche cosa di troppo come attenzione verso un elettorato moderato che è altra cosa rispetto a un partito progressista ecco e quindi Cadia Bellillo ha operato una scelta della quale me aveva anche informato dopo averlo fatto per chiedere come la pensavo evidentemente rispettato in pieno la sua decisione e comunque le ho preannunciato che non avrei sostenuto la sua candidatura perché come abbastanza noto almeno quantomeno in Umbria io ho votato con vintamenti 5 stelle alle recenti elezioni politiche e continuo a ritenere che sia ancora una scelta con la sua validità proprio nel momento nel quale scelte a livello nazionale di sinistra inteso come ambito della nostra costituzione che non viene attuata o non è stata attuata nel corso dei decenni mi convince che devo continuare a votare per i 5 stelle anche a livello locale Perugia in comune è una lista di sinistra civica che prende atto del fatto che in questi anni Perugia è stata una città senza governo e senza opposizione le cause sono remote non dipendono soltanto dall'attuale giunta ma occorre noi pensiamo una proposta politica e amministrativa che sia alternativa sia al centro destra sia al centro sinistra sia che ai 5 stelle proprio perché nessuna di queste forze è stata in grado di invertire la tendenza al declino della città al declino economico al declino sociale alla perdita di ruolo della nostra città io faccio il confronto con gli altri candidati e Cattia Berillo ha una storia una storia importante segnata sulla storia della nostra città della provincia della regione e del governo nazionale è una persona che ha vissuto come ha detto di voler vivere che si è impegnata in prima persona che è una donna e da questo punto di vista io credo che Cattia Berillo è una garanzia per certe politiche a iniziare credo dalle politiche sociali che sono fondamentali nella nostra regione dalle politiche per rilancio dell'economia dalle politiche per far sì che Perugia sia rispettata anche nell'ambito regionale un rispetto che è anche la necessità della costruzione di un nuovo municipalismo della nostra regione e di rimettere in rete tutte le città dell'Umbria Cattia Bellillo abbiamo risentito così le due voci da sinistra lei col senno del poi un provvedimento come il reddito di cittadinanza che è stato decisivo sul piano elettorale ora lo vedremo nella sua attuazione che cosa che effetti produrrà da appartenente alla sinistra così ho sempre detto sempre basta che leggete anche le mie note che ho fatto su Facebook in questi dieci anni che il reddito di cittadinanza ha la valenza rivoluzionaria di trasformazione mondiale che ha avuto la lotta per le otto ore noi oggi stiamo vivendo tutto questo po' di confusione perché stiamo vivendo in una fase di trasformazione inusitare dal punto di vista dell'economia che dal petrolio sta andando all'elettricità cambiano i lavori i proprietari sono in qualsiasi altra parte del pianeta come dire ognuno di noi lavora per gli azionisti delle banche che sono anche gli azionisti delle multinazionali con il nostro computer noi facciamo produciamo un lavoro per i quali queste grandi compagnie e anche le banche non assumono più personale non hanno più sedi stanno lasciando tutte le sedi perché si stanno concentrando lo sa che Unicredit sta chiudendo la sua sede di Lussemburgo perché raccoglie tutto a Monaco allora noi però lavoriamo per loro con le nostre stampanti con il nostro la nostra carta con i nostri cellulari noi perdiamo il tempo allora qui bisogna riproporre l'analisi mazzista no? fra no ma è normale perché noi produciamo c'è il lavoro c'è un lavoro ci deve essere riconosciuto quindi il reddito di cittadinanza è una cosa seria che deve essere fatto togliendo ai profitti super profitti delle compagnie che lavorano per i quali noi lavoriamo lei 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 tutti noi quello che sta facendo oggi Di Maio e questo governo è diciamo un intervento che chiamiamo reddito di cittadinanza che è una diciamo un'assistenza di civiltà che in tutti i paesi dell'Europa ci sono da il novembre faccio un ultimo giro con i colleghi perché siamo in conclusione di questa nostra prima parte ripartiamo da Pierpaolo un flash proprio va a finire che però la Cattia Belino la vedo più vicina alla Rosetti che non ha a fine che in un ipotetico ballottaggio magari si sentano guarda io volevo fermarmi sul mercato ortofrutticolo ma vedo che torniamo sulla pratica marxista perciò come va bene io credo che quello che ho detto ma lo facciamo lo facciamo anzi ti chiamo mi fai da consulente io sarò il sindaco ma io non riesco a fare consulenza nemmeno a casa mia per far cucinare la pasta appunto vedi che non sai neanche cucinare la pasta appunto però vedi sempre di ricetta per Perugia parliamo sempre di ricetta ho visto i piatti e mi sono la torta al testo però devo dire adesso quello che diceva un po' Fabrizio ci sono anche dei nodi lui citava l'IKEA io ho citato l'ex mercato ortofruttico questi sono i nodi credo su cui bisogna confrontarsi per parlare alla città poi qui ormai tu sei diventato una specie di Vespa in sedicesimi perciò il dibattito si fa tutto qui prossima volta magari dottoressa Bellillo ci chiareremo anche su questo avremo modo di invitarla anche con altri con altri ospiti Alfredo Alfredo Doni per andare a chiudere un pochino questa nostra chiacchierata che altra curiosità ci vogliamo togliere ma intanto volevo sapere volevo chiedere la dottoressa Bellillo perché lei prima citava parlava di accesso al centro storico bus ne avete voluto sapere se lei era a conoscenza del fatto che nel 2018 comunque sono arrivati 23 nuovi autobus che c'è un piano per incrementare il trasporto urbano su Perugia ne arriveranno altri 10 nel prossimo anno di autobus elettrici quindi si sta dando anche spazio diciamo a questo tema una domanda secca il sindaco di Perugia ha ristretto la zona traffico limitato piazza piazza è un errore ecco vuole sapere lei cosa ne pensava assolutamente io allargherei la zona ZTL allargherei perché la città il centro non lo regge non regge sosta selvaggia i commercianti io l'ho ritrovati come quando ci parlavo 30 anni fa quando ero consigliere comunale eravamo riusciti ad aprire la zona ZTL loro non hanno capito appunto che Perugia diventa più complicata se non c'è la possibilità di avere il parcheggio che non sia un un pizzo no perché per tre ore 11 euro insomma diventa una cosa difficilissima venire a Perugia non è che se loro fanno arrivare le le auto davanti alla fontana maggiore vendono vendono di più infatti la domanda che io vorrei fare a loro che me lo dicano perché io sono pronta a parlare e a confrontarmi con tutti anche con Giubilei Giubilei mi deve chiamare ancora siamo rimasti aspettando una signora io sono una signora e quindi aspetto che Giubilei i commercianti del centro di Perugia lo voglio chiedere così col cuore in mano da quando hanno ristretto e c'è sosta selvaggia avete venduto di più se avete venduto di più ci ragioniamo se trovo un commerciante che è contrario ce lo faccio sapere perché è una notizia però perché di solito i commercianti sono stati sempre molto ben disposti verso una apertura al traffico del centro appunto ho detto questo io cioè loro hanno voluto hanno imposto al sindaco se ho costruito bene la cosa dal mio caseggiato loro hanno voluto che la zona ZTL venisse un po' allargata va bene anzi cioè sì ristretta diciamo cioè sì venisse aperta via allora la domanda e è sbagliato si sono pentiti non lo so io ho fatto la domanda io voglio sapere visto che hanno ottenuto questo che Perugia centro i pochi che ci abitano sono stravolti perché oltre a pagare il comune per avere un posto auto non lo trovano mai e prendono le multe perché questa è la situazione allora io voglio chiedere ai commercianti del centro di Perugia che hanno ottenuto da questo sindaco si hanno guadagnato meno si hanno guadagnato meno io lo chiederemo magari la prossima volta che torna le facciamo sentire la risposta va bene li andiamo a intervistare un flash proprio in chiusura perché ci aspettano la seconda parte degli ospiti noi chiuderemo questa puntata aprendo un po' una finestra sul tema del giorno che è quello sui cambiamenti climatici non tanto per le manifestazioni in piazza ma perché siamo andati a sentire la voce di alcuni addetti ai lavori diciamo così in una recente conferenza a un via fiere di Bastia lei però stamattina era in piazza con i giovani come stava un ritorno diciamo ma no io le manifestazioni le ho fatte sempre ne ho mai smesso anche con la mia nipotina ne ho mai smesso le manifestazioni ne ho mai smesse ho smesso la vita politica attiva perché avevo che aria si respirava stamattina era bella però questi giovani io vorrei che poi a parte la manifestazione io voglio dire adesso che facciamo vi assumete la responsabilità oppure continuate a stare su facebook a fare la battutina a proposito di giovani scusa una curiosità la partecipazione reale al fare al fare non a scrivere basta Fabrizio prima l'ha introdotto questo elemento che secondo me Fabrizio il collega dicevo no no in lista parliamo adesso di una cosa veramente pratica proprio in chiusura perché siamo proprio zona cesarena ci metterà questi giovani qualche giovane ci sono? ma perché non ho capito ma la città ma la città come è fatta è fatta di giovani di anziani anzi siamo più anziani ma mica perché ce l'ho con gli anziani giovani e meno giovani uno che è anziano vero uno che è anziano vero e Pierluigi Neri vota per i 5 stelle non ho capito io dovevo avere giovani sono piena di giovani di donne piena di donne quante liste quante liste avete in mente di presentare a sostegno della sua candidatura una due tre questo lo vedrete quando ci dica un numero via un ordine di grandezza è un numero io sto lavorando stiamo lavorando quando la cosa sarà potere al popolo potere al popolo per esempio ci sarà se conviene avere più liste oppure no insomma noi siamo tutto sommato dei professionisti serie potere al popolo ci sarà potere al popolo ci sarà con voi questa è una domanda secca allora potere al popolo in questa fase noi siamo eravamo tutti noi dentro potere al popolo no potere al popolo proprio per questo giusto allora potere al popolo in questa fase così come DM25 Perugia che è quella i gruppi l'associazione di Varufakis eccetera abbiamo anche loro loro hanno preferito di non come dire mettersi dentro anche perché stanno costruendosi stanno creando organizzandosi per cui mentre noi abbiamo deciso di metterci nella rete dei comuni ribelli dell'Europa che già dai territori vogliono fare argine a diciamo la dittatura c'è una divisione anche dentro il campo non c'è divisione ci sono gli ragazzi così ma no ma sei un provocatore lo chiamiamo per questo ma sei tanto caruccio ma da me guarda a me poi mi fai il piacere per capire ma che canici votano io ho la mia figlia però non stanno con lei potere al popolo non c'avrà il simbolo ma c'avete un accordo politico con potere al popolo cioè come come forma politica non se la sentono in questo momento di apparire anche perché eravamo tutti noi scusate c'eravamo tutti dentro adesso sono rimasti un po' di ragazzi di giovani che giustamente dicono dateci fiato è in itinere è in itinere la formazione della coalizione devo dire questo e poi veramente la chiudo qui ti lascio fare solo perché hai fatto la battuta sulla terza can ma qui si parla veramente solo qui si fa campagna elettorale a Perugia non si fa non lo so io parlavo prima con Fabrizi ma dov'è questa campagna elettorale arriva arriva no li dicevo noi abbiamo cominciato con Katia Bellillo veramente forse la campagna elettorale al di là poi degli aspetti pirotecnici del personaggio che è appassionato e generoso si può condividere o meno comunque credo che sia un contributo forse a uscire un po' lo scoperto all'animale un paludamento insomma sì questo credo bene bene ma noi ci facciamo non sono così cattivo vedi come sembra non sono così cattivo sono stata zitta volevo dire e la vediamo che stava partendo ci facciamo questo augurio ci facciamo questo augurio ringraziando e salutando Katia Bellillo per essere stata con noi ovviamente in bocca al lupo per il rush il lupo corre con me per il rush il rush di questi due mesi il rush finale grazie per Paolo Purattini Umbria Radio Federico Fabrizi il messaggero Alfredo Doni Corriere dell'Umbria noi ci fermiamo ma solo per una pausa pubblicitaria perché tra poco abbiamo una seconda parte parliamo di lavoro e lo facciamo analizzando da un lato uno strumento che è stato utilizzato in questi anni del quale ci si profila una novità da aprile che è quello di garanzia giovani ma avremo delle testimonianze di chi non solo è entrato nel mercato del lavoro ma si è anche fatto un'esperienza di autoimprenditorialità e poi chiuderemo come detto con un servizio sull'oggi sul tema dei cambiamenti climatici dopo la pubblicità nuovo capitolo per questa nostra puntata numero 12 di Inumbria apriamo una finestra nel mondo del lavoro e della formazione in particolare è un tema che stiamo seguendo da alcune puntate da alcune settimane sia per l'attualità si parla ovviamente il tema del momento è quello del reddito di cittadinanza ma noi vogliamo andare un pochino a scandagliare anche quello che è il mondo delle opportunità formative di ingresso nel mercato del lavoro che già esistevano da prima e che hanno prodotto dei risultati nel territorio della nostra regione capire che tipo di prospettive avranno anche in questa nuova fase e stasera parliamo in particolare di una misura garanzia giovani se ne è parlato in tante occasioni daremo qualche numero vedremo insomma come sono andate le cose ma soprattutto parleremo e con i tecnici che seguono da vicino questo particolare sistema di incontro tra domande e offerte e lavoro e sentiremo delle testimonianze mondo delle imprese e tirocinanti o ex tirocinanti che hanno visto concludere il proprio percorso formativo presentiamo gli ospiti qui nei nostri studi alla mia destra saluto Francesco Giovagnoni che è orientatore del centro per l'impiego di Perugia buonasera centri per l'impiego di cui si parla molto in questo momento ma non per questi motivi sotto i riflettori siete sotto i riflettori e poi ci dirà insomma che clima si respira ormai da qualche giorno a questa parte e salutiamo invece alla mia sinistra Francesca Taticchi titolare del ristorante Nadir di Perugia che ha operato la scelta anche di inserire all'interno dei propri collaboratori figure attraverso la misura di garanzia giovani e con lei c'è Filippo Scargiali che ha ovviamente si è iscritto poi spiegheremo sommariamente come funziona con Giovagnoni si è iscritto all'elenco dei potenziali tirocinanti ha ha matchato come si dice il suo curriculum con le richieste dell'azienda e ha compiuto il suo percorso e abbiamo voluto giocare un pochino sul titolo cinematografico per un pugno di redditi ma solo perché ci piaceva la foto di Clint Eastwood che in una delle sue espressioni con o senza sigaretta ovviamente ironizziamo su questo ma parliamo di un tema serio che è quello ovviamente del lavoro tra poco sentiremo anche un'intervista perché ci sono novità da qui al 30 di aprile e poi ascolteremo un'altra testimonianza di chi attraverso questo percorso ha conosciuto invece una nuova fase quella di autoimprenditorialità insomma sarà una mezz'ora piuttosto ricca ma intanto partiamo da Francesco Giovagnoni ci dica un pochino come stanno le cose con Garanzia Giovani perché è un'esperienza che a livello di numeri a livello di adesioni ha avuto sta avendo in Umbria un riscontro importante assolutamente sì innanzitutto per fare un po' di chiarezza anche nei confronti degli ascoltatori sotto Garanzia Giovani si riuniscono diversi tipi di programmi Garanzia Giovani è un'iniziativa dell'Unione Europea che viene attivata qui in Italia a maggio del 2014 è sostanzialmente un insieme integrato di politiche attive del lavoro tirocini formativi corsi di formazione risorse finanziarie per avviare un'attività in autoimpiego autoimprenditorialità e in parte anche di politiche passive perché a fronte di assunzioni che vengono fatte dalle aziende il programma riconosce degli sgravi contributivi o dei veri proprio bonus occupazionali l'esperienza di Garanzia Giovani in Umbria termina a maggio del 2016 ma la nostra regione ha valutato positivamente i risultati che da questa sono fuoriusciti e ha deciso con risorse finanziarie del piano operativo regionale di rifinanziare una Garanzia Giovani regionalizzata che è stata denominata pacchetto giovani sostanzialmente dei stessi tipi di misure per cui tirocini corsi eccetera ha avuto termine anche questo tipo di programma e nel 2018 è stato attivato Umbria Attiva che è ancora in corso e quindi si stanno svolgendo i corsi e i tirocini di quest'ultima tornata la differenza rispetto al passato mi correga se sbaglio che non ci sono più alcuni limiti come quello dell'età o sbaglio allora di fatti è stato differenziato gli interventi tra giovani fino ai 29 anni e persone over 30 sono due due programmi gemelli per così dire che consentono sia ai giovani che ai meno giovani di utilizzare gli stessi tipi di strumenti sostanzialmente quindi fare un percorso traduciamolo di sei mesi con un diciamo una retribuzione e al tempo stesso per l'impresa l'opportunità al termine di questo percorso di avere degli sgravi importanti nel caso in cui si vada l'assunzione è assolutamente così io ricordo e mi preme sottolineare perché alle volte questi programmi sono stati strumentalizzati in un verso o nell'altro i programmi soprattutto per i giovani sono rivolti ai cosiddetti NIT è un acronimo inglese per dire coloro che non lavorano non studiano e non sono impegnati in corsi di formazione professionali per i ragazzi che non fanno nulla per cui sono percorsi di attivazione personale di attivazione delle conoscenze possedute delle competenze gli strumenti li ricordava bene lei sono i corsi di formazione cioè il giovane viene presso il centro per l'impiego e attraverso un colloquio di orientamento individua lo strumento più efficace al fine di raggiungere i propri obiettivi lavorativi e professionali quindi ha la possibilità di avere un voucher formativo cioè la possibilità di frequentare gratuitamente un corso che sia coerente con il suo progetto di inserimento lavorativo o in alternativa realizzare un'esperienza in azienda un tirocinio formativo di sei mesi con un'indennità di 500 euro al mese a stretto contatto con le realtà imprenditoriali per molti giovani io lo ricordo queste sono le primissime opportunità di entrare in contatto col tessuto imprenditoriale sono le primissime esperienze dopo l'università o dopo la scuola media superiore per poter capire come funziona finalmente il mercato del lavoro questa è la voce del centro dell'impiego andiamo nelle aziende a Francesca Taticchi chiedo come è stata la scelta perché avete scelto anche di percorrere un pochino questa strada cioè di andare a testare qualche giovane con questi con questi strumenti se pensavate insomma che ne valesse la pena allora è fondamentale noi siamo nel mondo della ristorazione allora nel mondo della ristorazione possono sorgere dei problemi in questo modo secondo me si riescono in qualche modo ad affrontare sempre che il giovane poi abbia voglia di buttarsi in questa perché noi possiamo dare tutti i mezzi che vogliamo ma se la persona poi non sposa la causa non è predisposta ecco non è predisposta poco c'è da fare comunque quando ecco avendo un ristorante questa attività è importantissima la formazione che le persone che vengano che si propongono per lavorare comunque siano disposte ad imparare che quindi abbiano già o un bagaglio personale alle spalle oppure che siano disponibili a farlo con noi in azienda che abbiano questa apertura perché è necessario un periodo appunto di rodaggio dove la persona comincia ad inserirsi ed acquisire le tecniche gli strumenti ecco sei mesi la curiosità sei mesi sono un periodo secondo lei sufficiente dalla sua esperienza ma dipende molto dalla volontà del ragazzo poi io credo che anche per la nostra esperienza insomma li mettiamo subito sotto no? per cui poca teoria ecco molto importante capire che cosa vuol dire quando viene un ragazzo tu lo prendi a fare un tirocino di formazione non lo puoi mettere a lavare i piatti deve stare in cucina a fianco con te e imparare le tecniche quindi sei mesi sono un buon periodo certo finiscono subito non è che poi dopo di che uno ecco già si chiama chef questo no quindi magari un po' di prolungare questo tempo potrebbe non essere negativo comunque sono già una buona un buon percorso voi fate parte di una rete comunque collegata anche all'università dei sapori siete in contatto con questo centro di formazione ricordiamo accreditato che ha atto una serie di iniziative di politiche proprio attive per il lavoro e opera sul fronte della formazione degli stage dei tirocini extracurricolari e questo vi permette in qualche modo di segmentare ci facciamo un servizio reciproco perché noi abbiamo bisogno di persone ecco che poi si mettono al fianco nostro ci danno una mano eccetera e anche di valutare se potrebbero essere poi adatti idonei per proseguire il lavoro con noi l'università dei sapori ovviamente dà degli strumenti ma poi ha bisogno che i ragazzi si mettano in campo per cui strutture come la nostra che aprono le porte a questo tipo di esperienza credo che siamo importanti anche per l'università dei sapori sentiamo che cosa ci dice Filippo Scargiali di questa esperienza perché ci si iscrive intanto perché ci si iscrive a questo elenco a parer mio io mi sono iscritto a Garanzia Giovani perché insomma non avevo voglia di studiare quindi per me lo studio era una retta parallela e mi sono buttato subito nel mondo lavorativo ho fatto ricerche su internet amici parenti e ho trovato questa opportunità e l'ho sfruttata con questo corso che ho fatto da aiuto cuoco il corso in che cosa consisteva? il corso di? aiuto cuoco ok era un corso basato proprio dalle prime armi dai tagli impasti tutto quanto tutte le cose base e poi ti facevano fare uno stage di tre io l'ho fatto di tre settimane perché l'ho sfruttata pieno potevi farlo anche più lungo però io l'ho sfruttato tre settimane proprio full immersion sì mattina e sera mattina e sera e dopo finire il termine a trosteggio ho trovato lavoro su un altro ristorante sempre con grazie e garanzie a giovani e dopo ancora sono arrivato qua con Francesca e proseguo insomma non è un percorso tra virgolette sicuro nel senso sicuro nel senso non è che se uno lo imbocca arriva per forza destinazione ci vuole costanza ci vuole tenacia e soprattutto bisogna imparare un lavoro sì io sono dell'idea che dobbiamo imparare e aiutare anche i giovani cioè io sono giovane però quelli più giovani di me che vengono a fare lo stage nel nostro ristorante cioè nel suo ristorante e aiutarli a crescere e a farli prendere una decisione importante anche perché qui torno al centro per l'impiego prima della nostra prima intervista spesso non si ha le idee troppo chiare su quello che si vuole fare lei è un orientatore Giovagnoni adesso si parla di queste figure appunto dei navigator comunque come li chiamiamo sono orientatori i ragazzi sono forse oltre che un po' disarmati anche un po' disorientati tra poco parleremo anche di una realtà di chi si inserisce in queste liste però poi dice no a qualsiasi proposta lei che idea si è fatto c'è molta c'è molta così c'è disorientamento difficoltà non in tutti i giovani ovviamente però lei mi dà l'opportunità di parlare di uno dei servizi con valore aggiunto che fornisce il centro per l'impiego che è appunto quello di orientamento noi diciamo sempre ragazzi che incontriamo che un tirocinio o un corso di formazione è uno strumento che non va confuso con il fine con i propri obiettivi professionali io dico spesso con una metafora che il corso il tirocinio è un ponte tra gli luoghi il luogo delle tue attuali conoscenze competenze il luogo dei tuoi obiettivi lavorativi e professionali ecco il corso il tirocinio esprime il massimo delle sue potenzialità se unisce con consapevolezza questi due luoghi è un lavoro difficile i ragazzi sono fisiologicamente in maniera giustificata spesso disorientati noi cerchiamo di offrire questo tipo di servizio mi consenta di fare un esempio visto che abbiamo il mondo della ristorazione alle volte i ragazzi arrivano anche in conseguenza dei vari format televisivi che ci vengono propiniati fare lo chef è diventato come con un'idea un po' diversa rispetto allora noi dobbiamo cercare di ricondurre il ragazzo a verificare le proprie attitudini la propria volontà e a calibrarla rispetto a un progetto perché alle volte quello che i giovani immaginano è qualcosa di un po' diverso a quello che poi viene riscontrato nella realtà sicuramente la signora Taticchi mi darà ragione io ne sono convinto e quindi il lavoro di orientamento è anche questo è cercare di fare tesoro di questi strumenti in maniera che essi possano dare al giovane il massimo delle possibilità delle potenzialità anche perché il paradosso qual è che poi ci si scrive in queste liste e insomma in misura abbastanza consistente di giovani non rispondono poi alle magari proposte che vengono fatte attraverso i centri per l'impiego dalle aziende e qual è il risultato che le liste sono piene ma magari restano fuori giovani che potrebbero invece accettare quelle proposte e iniziare il loro percorso e allora si è pensato di risolvere almeno a breve questa impasse questa situazione c'è stata un'iniziativa da parte di un consigliere regionale lo abbiamo sentito e dal 30 aprile si riapriranno a quanto pare questi elenchi e quindi le possibilità per i più giovani sentiamo dal 2014 ci sono stati circa 20.000 iscrizioni al portale della regione 16.000 sono stati colloqui fatti e circa 1.000 sono stati i contratti di lavoro a tempo indeterminato che dopo i tirocini o i corsi di formazione sono stati stipulati oggi questo garanzia giovani che adesso si chiama programma per il lavoro Umbria Attiva è stato rifinanziato con circa 32 milioni di euro la preoccupazione è che malgrado queste risorse ci sono ancora numerose offerte di lavoro da parte delle aziende che sono in evasi questo perché perché chi è entrato nel portale iscrivendosi magari non ha fatto la sua scelta e quindi potenzialmente assorbe le risorse che la regione mette a disposizione anche per chi vuole o vorrebbe entrare nel portale quindi aderire a quell'offerta ma non lo può fare perché le iscrizioni sono appunto state sospese il 17 di ottobre proprio perché le domande e le risorse a quel punto erano potenzialmente assorbite quindi quello che io chiedo è di far sì che entro il 30 di aprile chi ha aderito al portale ma non ha fatto la sua scelta negli ultimi tre anni venga cancellato e quindi in qualche modo lasci libero il posto a chi magari vuole aderire alle offerte di lavoro ma non lo può fare perché in questo momento le iscrizioni sono sospese allo stesso tempo però ci sono tanti giovani che non scelgono che non si accontentano e che magari preferiscono rimanere a casa pur di non accettare dei lavori che ritengono non adeguati ai loro profili ecco il mio invito è intanto di iniziare di partire di entrare nel mondo del lavoro e comunque se proprio non lo si vuole di lasciare libero a chi lo vuole fare perché magari quell'opportunità potrebbe essere importante per un amico per una famiglia che in qualche modo ha bisogno sia di lavorare sia di motivare i propri figli Sembra quasi un paradosso ma questo è e dal 30 aprile adesso vedremo l'evoluzione ma dovrebbe in qualche modo sbloccarsi la situazione a chiedo a Francesca Taticchi così proprio una sua impressione su questo percorso ovvero è importante anche per le aziende nell'ottica delle aziende utilizzare questi strumenti nell'immaginario collettivo spesso si dice che siano anche utilizzati da alcune imprese così per avere una persona in più per sei mesi in realtà per chi ha bisogno di persone brave qualificate non è così no non può essere così anche perché soprattutto nel nostro ambito non è che tu ogni sei mesi puoi fare un turnover e cambiare persone questo a parte che il tempo il tempo mai come in certi settori è denaro anche perché fai a tempo formare una persona anzi il problema è forse proprio l'opposto che a volte tu vorresti tenere una persona invece questi giovani spesso succede che siano un po' incostanti per cui è appena finito di formarlo vorresti avviarlo veramente al lavoro e dicono no per me è troppo faticoso no ma io il sabato devo andare devo essere libero vi è capitato? a voglia certo che capita purtroppo quello che diciamo ne parlavamo prima insomma creare una buona squadra di lavoro non è assolutamente semplice oggi perché appunto c'ha bisogno di riuscire a unire la passione o anche l'indirizzo che uno vorrebbe prendere poi col senso del sacrificio di che cosa vuol dire proprio lavorare e questo è una cosa che oggi secondo me va insegnata come si insegna non costringendo la persona ma insegnandoli ad avere passione e amore per quello che si fa e quello è quello che noi cerchiamo di fare insomma cercare di far amare il proprio lavoro e allora lì anche il sacrificio passa in secondo ordine e si fa con gioia però ecco assolutamente l'avvicendamento in un lavoro come il nostro è impossibile ma in ogni lavoro che richieda appunto formazione e preparazione Filippo Scardiali prima di questa occasione di iniziare questi percorsi aveva mai conosciuto il mondo del lavoro è stato come diceva prima Giovagnoni proprio il primo contatto per me è stato sì il primo contatto io prima ero studente sportivo e poi basta diciamo che ecco forse c'è un gap nel senso che la scuola e l'università ancora non riescono a far entrare nella così nel mondo del lavoro i più giovani quantomeno a far prendere loro coscienza di quello che li aspettano c'è sicuramente un mismatch tra domanda e offerta questo è sotto gli occhi di tutti non solo nella nostra regione questi programmi cercano di colmare questo gap la nostra regione purtroppo ancora si caratterizza per ad esempio il forte tasso di soccupazione intellettuale il nostro tessuto produttivo fa fatica ad assorbire l'elevato numero di laureati di livello che la nostra università sforna d'altronde le aziende lo sanno bene questi programmi danno un valore aggiunto per la formazione del giovane che però deve compiere l'ultimo chilometro dentro l'azienda ovviamente perché è impossibile pensare io sono 30 anni che mi occupo di queste cose che la formazione risolva con una bacchetta magica le necessità e i fabbisogni delle imprese l'ultimo pezzo di strada deve essere compiuto dall'azienda però come ci ricordava ormai il nostro ex partecipante a garanzia giovani sono strumenti importanti soprattutto in una fase iniziale in un percorso iniziale e mi consenta anche se parliamo di giovani anche per persone adulte che hanno perso il contatto col mercato del lavoro lo stiamo sperimentando dicevo che ci sono due misure gemelle ma alle volte questi strumenti danno la possibilità all'adulto di riqualificarsi e di rientrare in contatto con un mondo del lavoro che si andava via via allontanando certamente Filippo Scargiagli adesso fai parte della squadra del ristorante Nadir che tra l'altro mi sembra che abbia avuto comunque visibilità prima parlavamo dei talent no sbaglio con Borghese con Borghese se ricordo bene quindi c'è stata anche come dire una finestra importante per il ristorante Nadir ma c'è anche un ulteriore step per chi magari si forma con questi percorsi è quello di creare una propria impresa un proprio percorso imprenditoriale noi siamo andati a conoscere proprio una ragazza che dopo essersi formata grazie a questi strumenti ha aperto una pasticceria in proprio sentiamoli siamo al fatto questo è il tuo luogo di lavoro sì sono i 50 metri quadri dove facciamo la magia la magia che Emanuela crea è quella che esce fuori da questo piccolo ma completo laboratorio di pasticceria nel cuore della Perugia universitaria Dispenza 63 in via Fabretti pasticceria poi non solo perché io qui vedo anche dei salati sì facciamo anche pranzi quindi per quanto riguarda la cosa giornaliera e quindi in realtà facciamo un po' facciamo quello che ci piace Manuela ha 33 anni e da 3 porta avanti la sua attività insieme alla collaboratrice e amica Laura Lestini e prima di diventare imprenditrice ha frequentato gratuitamente un corso di pasticceria all'Università dei Sapori grazie a Garanzia Giovani progetto per le politiche giovanili una formazione che tu hai fatto insieme alla tua collega Laura ricordiamo Laura Lestini ci siamo conosciuti là in realtà 4 anni fa noi abbiamo fatto il corso anche perché arriva fino a 30 anni quindi io ne faccio 34 è stato proprio l'ultimo anno mio utile per rientrare ultimo treno l'ho preso anche perché l'opportunità di fare un corso formativo del genere non pagandolo diciamo che no? è un grande vantaggio soprattutto perché ci ha dato anche la possibilità di partire più avvantaggiati per quello che è i contributi nel senso dei dipendenti avevamo uno sgravio anche su quello che si è andato poi a cumulare ad altri per quello che sono le nuove attività e quindi avere una formazione intensiva del genere così è stato un vantaggio molto grande perché farlo da sola mi sarebbe magari pesato un po' di più quindi abbiamo almeno io colto l'occasione al volo Laura lo stesso era un periodo che era ferma quindi ha approfittato anche lei per ampliare la sua formazione lei viene già dall'alberghiero quindi per quello che era la ristorazione lei già era ferrata però aveva la passione della pasticceria quindi ha fatto anche questa cosa io venivo da tutto altro lavoro e ci siamo incontrate lì Quanto è durato questo corso? Sono stati tre mesi intensivi poi comunque la struttura lì è molto grande molto attrezzata e puoi fare e non solo guardare questo è stato il grande vantaggio secondo me perché c'era una parte operativa di molte ore e in più l'opportunità di fare poi un tirocinio in una pasticceria e vedere effettivamente poi i ritmi poi quelli che sono perché un conto è la formazione poi un conto è la vita vera lavorativa no? E quando hai capito che avresti voluto fare questa vita? Ma io in realtà avevo quest'idea già da già da prima prima che mi si mostrasse questa opportunità dell'Università dei Sapore o comunque di Garanzia Giovani già io già ho visto dei locali già ho visto delle cose già avevo quest'idea quindi si è messa in mezzo poi questa opportunità quindi l'abbiamo colta al volo via e questa è stata l'altra cosa positiva quindi lo consiglieresti? Sì secondo me sì Manuela ha aperto questo locale che propone pasticceria ma anche piccola gastronomia e ultimamente si sta specializzando in catering e nella realizzazione di torte per eventi speciali e sei un'imprenditrice Wow grande parola però sì possiamo dirlo Una testimonianza interessante perché se no si parla sempre di crisi sempre di difficoltà a mettersi in gioco e ascoltare così una ragazza che si mette nel mondo nel vostro mondo Francesca Taticchi che senso dà? Forse una speranza anche a molti suoi coetanei Assolutamente positivo assolutamente positivo bisogna bisogna lanciarsi bisogna crederci e io ripeto fare quello che uno desidera di fare con entusiasmo e buona volontà speriamo di superare questa crisi Assolutamente ripeto si parla sempre di questo noi con la nostra trasmissione apriamo delle finestre abbiamo parlato qualche settimana fa di crowdfunding di start up insomma tante idee che stanno evolvendo e comunque anche Filippo magari può consigliare chissà a qualche suo coetaneo comunque intanto di formarsi si di formarsi sicuramente però dopo anche tu sei stato stregato da questi miti ormai del piccolo schermo per me era una passione da piccolo a prescindere si però non l'ho potuta fare per la via dello sport e poi mi sono ributtato subito appena ho avuto l'occasione e adesso nell'era cracco tu entri diciamo di prepotenza in questo mondo chiudiamo con una battuta con Giovagnoni dicevamo del reddito cittadinanza come vanno le cose al centro per l'impiego di Perugia che atmosfera c'è in questi giorni dal 6 marzo in poi mi consenta l'idornia salverà il mondo io dico sempre quindi siamo un po' nel sabato del villaggio in attesa in attesa ma è un'attesa positiva io personalmente lo dico a titolo personale ritengo che questi strumenti siano strumenti importanti adesso si sono a prescindere da tutti e vanno fatti funzionare al meglio dal mio punto di vista c'è ancora uno sforzo organizzativo che deve essere fatto lentamente ma ineluttabilmente anche i servizi per l'impiego dovranno adeguarsi a questa scommessa ricordiamo che chi accede a queste misure perché forse questo è l'aspetto di cui si è parlato un po' di meno ha poi dei percorsi formativi da seguire non è che assolutamente si si entra si arriva e si incassa di fatto c'è un patto per il lavoro ma anche un patto per la formazione quindi i colloqui che dovranno essere fatti presso il centro per l'impiego individueranno una carenza di competenze che dovrà essere colmata attraverso percorsi formativi quindi il legislatore dà un ruolo proattivo al percettore del reddito di cittadinanza deve agire per uscire dalla sua situazione se volete si possono fare delle analogie con garanzia giovani il ruolo centrale viene dato alla persona che deve essere aiutata ad attivarsi per poter cercare lavoro questo è il compito importante dei centri per l'impiego bene bocca al lupo perché vi attende un lavoro importante fondamentale non tanto e non solo per la riuscita di questa misura ma soprattutto per le aspettative di coloro che potranno accedervi io ringrazio Francesco Giovagnoni orientatore per il centro per l'impiego di Perugia ringrazio Francesca Taticchi del ristorante Nadire Filippo Scargiali che ha partecipato a Garanzia Giovani oggi fa parte dello staff del Nadire ovviamente la nostra trasmissione non finisce qui abbiamo una parte conclusiva e è sempre agganciata all'attualità oggi giornata di manifestazioni in tutto il mondo anche nella nostra piccola Umbria in Umbria non poteva mancare non solo in piazza dare un'occhiata a quello che è accaduto anche a Perugia con le manifestazioni a difesa dei cambiamenti o meglio per evitare eccessivi cambiamenti climatici e quindi a difesa dell'ambiente ma poi andremo e chiuderemo questa nostra puntata con alcune testimonianze da un importante convegno che si è svolto la scorsa settimana a Umbria Fiere a tra poco e siamo all'appendice finale di questa nostra dodicesima puntata di Umbria torniamo all'attualità il sogno di Greta è la slide che abbiamo voluto usare per questa parentesi conclusiva oggi milioni di giovani soprattutto si sono identificati in questa ragazzina di 16 anni di Stoccolma che da alcuni mesi manifesta con questo cartello Skull Strike for Climatet ovvero traduzione molto così alla lettera sciopero della scuola per il clima non è un semplice sciopero fino a se stesso ma un grido d'allarme che arriva da una ragazzina che ora è addirittura candidata a premio Nobel ma che ha voluto nell'innocenza della sua tenera età lanciare soprattutto un grido d'allarme per le nuove generazioni che mondo avranno tra qualche anno è un punto interrogativo che resta aperto e di cui oggi tanti si sono fatti carico in delle manifestazioni che hanno coinvolto le città un po' di tutto il mondo anche nella nostra Umbria perché abbiamo contributo filmato che possiamo apprezzare anche a Perugia ci sono stati i cortei di questa giornata questo Friday for Future Perugia sciopero mondiale per il futuro e il tutto nato appunto dall'iniziativa di Greta Thunberg che in questo 15 marzo ha unito idealmente tante piazze del mondo la temperatura media è stato detto quest'oggi la temperatura media del pianeta è aumentata di circa un grado rispetto all'epoca preindustriale e le previsioni sono che aumenterà ancora entro la fine di questo secolo con conseguenze fisiche e sociali decisamente negative ebbene oggi si è parlato anche di questo la partenza del lungo serpentone molto allegro molto colorito di studenti prevalentemente studenti anche a Perugia è partito alle 9 dai giardini di Santa Giuliana e si è concluso alle scalette di San Tercolano poi tanti approfondimenti sui temi dal difendere la biodiversità dal clima che cambia agli obiettivi di sviluppo sostenibile fino al tema insieme con Greta con gli interventi che prendevano spunto proprio dalla manifestazione lanciata da questa ragazzina svedese e in piazza 4 novembre sono stati installati i pannelli che indicavano i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile iniziative che hanno visto la partecipazione anche istituzionale di soggetti come Arpa Umbria come Lega Ambiente come il Kids Beat Festival di cui ci siamo occupati qualche settimana fa proprio in Umbria tra i progetti finanziati col crowdfunding dalla CNA ma anche la Biblioteca Comunale San Matteo degli Armeni e c'è stata come vediamo grande partecipazione soprattutto di giovani saranno loro che dovranno farsi carico di questi temi e fare in modo che la loro e quelle successive di generazioni possano respirare diciamo così aria più pulita il sogno di Greta però è anche l'oggetto di approfondimenti che ci sono stati la scorsa settimana e quali vi lasciamo nel salutarci in questa puntata perché se ne è parlato a Umbria Fiere si è parlato di cambiamenti climatici sotto tanti punti di vista quello letterario quello tecnico perché l'occasione era proprio legata appunto ai temi della tecnica dell'architettura dell'energia e del risparmio e della riconversione energetica anche delle nostre abitazioni e se ne è parlato anche da un punto di vista per così dire filosofico tutto questo in Piazza Tecla all'interno di Espo Casa al quale vi lasciamo in questo servizio finale salutandoci e dandovi appuntamento a venerdì prossimo per la puntata numero 13 di in Umbria come sempre il venerdì alle 21 e replica il sabato e nel fine settimana grazie per essere stati con noi e vi lascio al servizio conclusivo buon fine settimana la 37esima edizione di Espo Casa che si è conclusa domenica scorsa ha confermato l'alto livello raggiunto dalla manifestazione la grande rassegna firmata Epta Conf Commercio Umbria continua a crescere a riscuotere i consensi dei visitatori a corsi a migliaia anche da fuori regione confermandosi il più importante appuntamento di settore del centro-sud Italia con i suoi 24.000 metri quadri e 500 stand un'edizione importante nelle parole del presidente di Epta Aldo Amoni che ha sottolineato l'evoluzione della manifestazione con la fortunata sinergia con istituzioni come l'Accademia Belle Arti Pietro Vannucci e il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia e soprattutto con il contributo dei docenti Paolo Belardi e Simone Bori che hanno ideato il percorso Open Minds Costruire Futuri che è perfettamente riuscito a ispirare gli organizzatori e gli espositori creando qualcosa di unico dinamico e rispettoso dell'ambiente in questo ambito si inseriscono anche gli appuntamenti del ricco calendario culturale di Piazza Tecla organizzata dall'omonimo gruppo imprenditoriale gubino guidato da Franco Giacometti ricco di ospiti e temi di rilievo che ha conquistato privati professionisti operatori di settore da Oliviero Toscani a Padre Enzo Fortunato qualificati i relatori che si sono alternati nello stand tra gli incontri di spicco quello dedicato ai cambiamenti climatici rispetto al quale la sfida dell'uomo è quella di un approccio sostenibile rispettoso dell'ambiente anche nella progettazione e realizzazione dei propri spazi di vita come l'abitare con una chiave che spazia dalla scienza alla letteratura fino alla filosofia Tecla nel suo divenire imprenditoriale ha tre aspetti importanti la bellezza il pensaggio la cultura e l'arte e l'ambiente ma l'ambiente ci interessa non dal punto di vista razionale non dal punto di vista meramente fisico ma dal punto di vista umano cioè l'uomo che vive l'ambiente e l'iniziativa su cambiamenti climatici ha voluto riflettere modestamente con equilibrio l'enciclica del Papa laudato sì che sostanzialmente riparte dal tema di Francesco sorella terra enunciando la sofferenza della nostra sorella natura rispetto alla giro umano e l'iniziativa dei cambiamenti climatici Tecla ha voluto declinare in questi termini il motivo per cui abbiamo avuto due intellettuali dei fisici che hanno affrontato il tema da posizione tecnico abbiamo avuto il professor Vanoli che ha presentato un suo libro edito dal mulino che rientra in una quadrilogia che sono quattro libri sulle stagioni quello che ha affrontato oggi è l'inverno declinandolo partendo dal dal freddo come l'uomo ha affrontato il freddo come l'uomo è riuscito ad adattarsi al freddo coniugando abitare rivoluzione scientifica e quant'altro ma il raccontare da storico l'inverno e le stagioni in generale è una forse oggi quasi una necessità per ricordarci cos'erano le stagioni e quanto esse facciano parte della nostra natura e della nostra storia più profonda appunto in questo senso raccontarle in un luogo come quello serve anche a riflettere su quanto noi come uomini ci siamo adattati e adattandoci abbiamo imparato dall'ambiente nuove soluzioni nuove soluzioni di carattere culturale ma anche naturalmente tecnologico dunque insomma riflettere sugli spazi gli spazi interni gli spazi esterni è una parte anche importante della storia del clima i cambiamenti climatici sono davvero una minaccia per il nostro presente il nostro futuro sono la più grande sfida in assoluto che dobbiamo affrontare in questo secolo e non possiamo sperimentare su un pianeta con i nostri comportamenti utilizzando carbone petrolio e gas stiamo liberando una massa indescrivibile di gas clima alteranti cioè l'uomo ha toccato con il suo consumo di energia il termostato del pianeta ha scatenato il più grande esperimento nella storia del pianeta e adesso ovviamente la natura reagisce ci presenta il conto questi estremi del clima questo cambio anche nella forma di intensità degli eventi sono dei segnali chiarissimi quello che preoccupa soprattutto sono i sciolimenti dei ghiacci dei ghiacciai l'artico l'antardide è una cosa che è impensabile cioè siamo entrati in una fase di accelerazione per cui dobbiamo cambiare i comportamenti dobbiamo cambiare i stili di vita io a tal riguardo volevo citare questo passo dell'enciclica l'ho dato sì l'attenzione alla radice etica e spirituale dei problemi ambientali ci invitano a cercare soluzioni non solo nella tecnica ma anche in un cambiamento dell'essere umano perché altrimenti affronteremo soltanto i sintomi questa è un po' l'iniziativa il viaggio che Tecla sta facendo anche nella città dando una mano ad aiutare a vivere un po' di bellezza perché la bellezza se è riflessione di un mistero che è riportare Dio per noi cristiani al centro del divenire umano la prospettiva cambia completamente anche la prospettiva dell'ambiente assume un'altra particolazione il problema dei cambiamenti climatici è un problema così pervasivo di tutta la società che diciamo viene affrontato in ambienti molto diversi è uno degli aspetti che ovviamente noi stiamo cercando di fare di ridurre le emissioni prodotte dai combustibili fossili per far questo dobbiamo aumentare l'efficienza con cui usiamo questi combustibili in questo quadro le costruzioni il lavoro sull'ambiente urbano costruito le nuove costruzioni sono assolutamente cruciali perché sono dei settori che può contribuire in maniera decisiva sia alle riduzioni delle emissioni sia al processo di adattamento ai cambiamenti climatici che comunque verranno quindi un'occasione molto importante secondo me è importante vedere in questa sfida che abbiamo di fronte non semplicemente come dire un problema di depressione ma un'occasione di sviluppo e di innovazione lei viene da una terra che è sinonimo di qualità della vita all'Alto Adige quanto è importante in un luogo che dovrebbe essere di semplici scambi commerciali un'umbriafiere quindi un'espo casa una rassegna fieristica parlare approfondire questi temi anche l'impegno dell'impresa ad essere non solo uno strumento di mercato ma anche un veicolo di riflessione e infatti credo che non è un problema tecnologico è un problema culturale per cui dobbiamo investire nell'informazione sensibilizzare credo che oggi la crisi che viviamo è quella di una percezione che non abbiamo che cosa sta succedendo per cui dobbiamo informare bello è che un'azienda come Tecla si prende questo impegno di creare cultura di creare questo flusso di informazione che ci aiuta poi a arrivare ai nuovi comportamenti però senza la conoscenza non avremo il cambiamento per cui c'è ancora tanto da investire a creare questa informazione in definitiva un bilancio lusinghiero per il nuovo connubio tra Tecla ed Expo Casa che ormai da tre anni rappresenta un punto di riferimento di riflessione e approfondimento tecnico scientifico e culturale la soddisfazione è immensa è immensa perché si sente che la piazza sta diventando al di là del risultato quantitativo il cuore pulsante della fiera la fiera che sta trasformandosi in un luogo di eventi e la piazza è stato il luogo in cui la tecnica ha avuto un ruolo ma il ruolo più importante l'ha avuto la cultura e su questo il Presidente Ammoni ha come dire ha deciso di impostare molto del divenire dell'evento Expo Casa Expo Casa non più solo una fiera ma in cui le aziende hanno dei luoghi in cui poter parlare anche altri linguaggi l'impresa è sì un fenomeno economico ma come ci insegna il nostro legislatore del 42 è anche un soggetto che assume responsabilità sociale non è sempre facile creare valore però questo è il ruolo che noi ci siamo dati e fino a quando ce la faremo Anderwain 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 Anderwain